Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questi dieci anni hanno girato tutto il mondo, sono stati invitati alla Carnegie Hall di New York, hanno inciso tre dischi e veramente nel panorama internazionale hanno un posto di tutto rispetto. E questa sera ci delizieranno con un concerto che spazierà dal tardo barocco di Bach per passare al classicismo, anzi al romanticismo di Beethoven, fino ad arrivare alla musica del Novecento di Poulenc. Ma avrà un, come dire, una parentesi importante anche l'omaggio che faranno ai compositori italiani, compositori italiani come Rossini e Donizetti. Quindi un concerto, insomma, un po' per tutti quanti i gusti. Bene. Non ci resta che augurarvi buon ascolto da tutti noi di Musica su Roma. Grazie. 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 Grazie.